Ma sinceramente noi ancora i play-out non ci stiamo pensando, pensiamo ancora che è possibile salvarci, quindi adesso pensiamo partita per partita, abbiamo il Parma, pensiamo a vincere col Parma, poi guarderemo i risultati delle altre partite. Speriamo sempre una buona fede di tutti, io da modenese dico che non c'è buon rapporto tra Modena e Mantua, quindi è sempre stata una partita dove tutti e due vogliono sopraffare l'altra squadra, soprattutto anche nelle società. Però è normale una posizione come hanno loro, è normale che poi subentano altre cose, noi speriamo che si giochino la partita a viso aperto. Mi è arrivata la palla, ho perso un attimo nel guardare se era fuori gioco o no, mi sono defilato un po' e nel momento in cui volevo tirare poi ho sentito la voce di Marco che mi ha un attimo così fatto cambiare idea e la volevo dar dentro per un appoggio comodo. Se veniva la giocata era una gran giocata, non è venuta quindi sono un coglione. Non mi spiego come abbiano annullato quel gol. Fuori gioco è impossibile perché noi proviamo gli schemi e speranza viene da dietro. A me non piace parlare molto degli arbitri ma diciamo che una squadra che si deve salvare, che si vede annullare un gol del genere contro una squadra che non aveva praticamente nulla a dire per la salvezza, è una decisione clamorosa. La difficoltà della gara contro il Parma è che incontriamo una corazzata che vive un po' un momento di difficoltà e noi dobbiamo correre più di loro, non c'è niente da dire. Bisogna avere più fame di loro e vincere.